Alba ci vediamo tutti di nuovo qui Noi non possiamo che augurarvi buona fortuna Eccole, eccole sirene, eccole sirene Oh cazzo, corri 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 Cazzo No Al campo vento, non venire con noi Da qualche parte alla destra È entrato nell'arba lo zombie E va bella Dove stanno? Eccolo 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 qua, stai qua E' qui? Sì Amo? Vai, vai Corri, corri, corri Dietro, dietro Non mi perdete Cazzo, non mi perdete Cazzo, dobbiamo Ragazzi attenzione Attenti E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui E' qui Ragazzi 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 E' qui 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 Non è Non è Non è fattibile proprio fare Stare con il telefono Zero proprio Zero Ti devo sedere? Buonasera 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 Possiamo prendere direttamente Questa la posso prenderà Fattamente è passato Potete scegliere una cosa Ogni ora Potete scegliere una cosa Ogni ora Potete scegliere una cosa Ogni ora Potete scegliere una cosa Oppure Potete riprendere? Potete riprendere? Poi Fabio Corde Lunga Corta Teli Prendi prima il lumbaro Ok Aspetta Ragazzi Scegliete voi C'è La transenne Una corda Un telo Si si il telo si Il telo anche Quanti siete? Siamo cin... Sei 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 Scusami Quindi che stiamo prendendo raga? Ragazzi Le transenne sono queste Ah perfetto Perfettissimo Si ma caricarsela Ah no Cazzo È vero Ragazzi Le transenne sono queste Ma prendiamoci 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 i teli Prendiamoci i teli I teli sono questi qua Vero? I teli si Si però il problema Portarcele Voi siete sei Quindi Non voglio dire quanto ha questo Ma Già tre Abbiamo fatto un bel lavoro Perfettissimo Si Devi trovare una parte chiusa dall'altro lato Se no entro Ah Il triangolo è giuro Il triangolo è solo il chiuso Però noi siamo stagliando Eh ho capito ma dove raga? Devi trovare la parte miglietta Che c'è le spalle coperte Che sai che non può venire nessuno Giusto Ma noi quanto possiamo stare qua dentro? Quanto possiamo stare qua dentro? Indefinito Ah ok Quante cose possiamo portare con noi? Quante cose possiamo portare con noi? Due transenne una corda Ok No La cosa è questo Un rifugio come lo crei con due transenne Due transenne ti fanno questo No dobbiamo ritornare a prendere l'altra Non possiamo fare rilassamento Per forza dobbiamo prendere solo due transenne Per il momento si Però possiamo proprio spiazzarla nella zona dove c'è le spalle coperte Piazziamolo Prendiamo due transenne Prendiamo queste cose Piazziamole Tra un'ora torniamo Prendiamo l'altra transenne e gli altri piedi a testa Ma ce la fai a prenderle? Se stai piazzando le transenne Possiamo rispettarle Se stai piazzando le transenne E viene cortito E viene uno zombie Ah E stava attendo E' lo stesso non li fa lo stesso Vedi che ti serve Però sono Sono Però secondo me sono In senso pesante Da portarle Poi le finisco Raga Mi dovete dire Cosa stai prendendo Transenne Un pelo E una corda Prendo la corda io No La corda la prendete voi due Ok? Si Per riuscire Sono innocente E giudice Quindi stiamo prendendo Transenne Telo Ok perfetto Questa quanto servirà però Tu dici Allora l'altro telo Lo prendo io Lo prendo io Si Si Eh Ormai è lei Ma tu te lo immagini io Tu e Emilia Soli Se viene infettato Ok Lo sai che mi stai dando una grossa responsabilità vero? Se viene infettato ci dobbiamo riprendere le cose Addio Il problema è avanti Tu vai avanti Io vado avanti? Io? No avanti avanti Ah ok va bene dai Io vado Andiamo 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 Renè 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 Aspettare qui Nooo Qui fuori Fuori si Ok sono fuori aspetto fuori Però anche lì potete essere attaccati se arriva eh Eh va bene se mi attaccano me ne scappa Se si sbrigano con gli infetti Si Ecco ma Aspettare Facciamo il triangolo Guarda Ciao che ci siamo così tanto Diccio dove vai? Ha detto di non passare in mezzo È tutto il triangolo Ah Che ci siamo il controllo Ci siamo Però devi avere la formazione Oh Come state guardando? Oh a triangolo Oh ma quella trascena qua è assalda Da dove? Oh tu c'è Raga no a noi ci hanno preso ve lo dico A noi ci hanno preso Da dove? di là non andate di là la è pieno è pieno è pieno è pieno è pieno di là sì noi abbiamo lasciato infatti le transenne infatti non si dice questo come stanno arrivando come sono arrivando no raga scusatemi sa come la strade ma sulle c'è attenzione arrivando attenzione potete entrare ah ma proprio si buttano a terra ragazzi siamo completamente disfondati ancora un po' quanto e no perché sono fuori zombie grazie a tutti Grazie.